No, aspetta! Che c'è? Se lo sapesse Alfonso. Quale Alfonso? Al duca d'Este? Sì, sì, sì. E chi se ne cala? Se lo sa, ti farà squartare. Sì, vabbè, poi mi squarta. Per ora sono intanto. Gambe, testa e tutto il resto. Via! Ci siamo capiti. Alla freniera, presto! Che stai spiando tu? E chi io? Fermo! Ma chi è quello? Il duca d'Este. Che succede qui? Di San Gallo, altezza. Bastiano chi? Il pittore, vado ad avvertirlo. Dov'è la duchessa? Nel suo appartamento. Le muse mi sono amiche. Non c'è confine per un vero artista. Amore mio, che fai?